Ho affiancato Davide Tutino in questa azione non violenta che lui ha iniziato già cinque giorni fa insieme ad altri compagni che conosciamo e che sono anche degli amici per difendere l'istituzione sindaco, l'avrà già raccontato Davide, c'è un problema di rappresentatività, di democrazia e di legalità nel momento in cui un sindaco viene dimesso da altri poteri possibilmente più in alto di lui. Detto questo ho aggiunto oltre alla mia battaglia quotidiana che rileva e rivela quanto siano anche gli interessi del Vaticano ma vogliamo dire anche gli interessi della Suburra di Ostia dove a ottobre era previsto che Isabella con Marino revocasse le concessioni illegali. Detto questo Marino lo sosteniamo anche perché siamo stati candidati nella sua lista civica all'inizio delle elezioni nel 2013 e grazie a quella candidatura un radicale come Riccardo Maggi e noi diciamo sempre anche un radicale, anche un solo radicale può fare la differenza e un altro radicale come Davide Tutino hanno potuto iniettare le iniziative e le battaglie radicali dentro a questo comune, cosa che non sarebbe accaduta come pur lavorando tantissimo noi facciamo ogni giorno se fossimo rimasti all'esterno. Intanto questo sostegno umano da un punto di vista personale, politico da un punto di vista istituzione marino. Grazie.